Allora, vi chiederete, questo qui non è un gol, però la cosa curiosa, guardate qui, Falcao entra in area, cerca di driblare, Pujol la mette fuori, ma guardate qui, attenzione, oh, l'arbitro indica il discreto, rigore, come fa ad essere calcio di rigore? Io all'inizio pensavo, avrò fatto fallo Pujol su Falcao, Pujol è questo, Falcao, vediamo, qui prende la palla, ma a questo punto mi è venuto in mente con mio fratello, guardate il portiere, Casillas, guardate il barbo, guardate qui, guardate qui, Ibarbo è per terra, l'arbitro ha fissato questo rigore, e infatti, infatti il portiere è per testa, perciò questo è il rigore, ok, questa è quella della quinta parte, grazie, grazie, da Robert Smarter, 1999, D.